Ma lei è qua solo per Vannacci o anche per Salvini? Cioè è una distinzione? Questa è una chiusura di campagna elettorale, Salvini non è candidato, è candidato Vannacci, sono qui per Vannacci. Non voto Vannacci ma voto Lega. Perché non voto Vannacci? Perché ho altri candidati. Ma la Lega con Vannacci a che percentuale arriva in questi europei? Ah, non so, comunque io penso che almeno un 2% Vannacci lo porta. Le chiedo se condivide le posizioni di Vannacci. In gran parte. Quali condivide? Sulle regole, sui doveri, sulla necessità di tutelare tutti gli organi dello Stato, cosa che non sempre accade. Ma scusi, lei non è per la patria, per la famiglia? Ho detto qualcosa di strano, se non volete. Perché siamo più matrimoniali, ma non è per la famiglia. E allora non si può più usare? Cioè se io sono per la patria, per la famiglia, per i confidi, sono per faccia un fascino. Quali non condivide? Quelli che mettono in discussione qualche diritto. Lei ha letto il libro? Certo, c'è un bel regalo del generale. Benissimo, per cui lei ha letto il libro e ha letto tutto il capitolo, sa bene che non si parla di omofobia e di altre cose del genere. Si parla di anormalità, non viene sentito. Ma non ha detto mai il generale che sono anormali. Ehi, guardate lo scudo, che pedo. Mi è piaciuto Salvini questa modifica di Alberto D'Azzussano. Roma, SPVR, Roma. No, come mai? Ti lo spiega un attimo questo striscione? Spiega da solo o si spiega da solo? No, evidentemente non ho colto il senso. Posso chiedere? Non ho ancora più.